Quando vuoi cambiare casa, meglio prima acquistare casa nuova o vendere quella vecchia? Dipende, se i danari non mancano, possiamo cominciare dall'acquisto. L'importante è vendere casa vecchia entro i 12 mesi. In questo modo evitiamo brutte sorprese dall'agenzia delle entrate con tasse da pagare. Se invece abbiamo necessità dei danari della vecchia, allora meglio prima vendere e poi acquistare, però a una condizione. Fai inserire nell'agenzia immobiliare che ti segue questa dicitura. Tra preliminare e atto pubblico devono intercorrere non meno di 6, 8 o 12 mesi di tempo. In questo modo ti troveranno acquirenti che ti possono concedere il tempo necessario per cercare casa nuova senza ansie. Se fai il contrario, ti potresti trovare in una spiacevole situazione di dover vendere casa in fretta e furia e magari a un prezzo più basso perché è sotto pressione. Hai altre domande su come comprare o vendere casa? Scrivile pure sui commenti.